L'origine era che io volevo nella mia età di 70 anni aver finito di raccontare la mia eredità. La mia eredità non è altro che storie dell'alpinismo, cultura dell'alpinismo o della montagna, specialmente esperienze. La mia esperienza però non è soltanto la mia personale, è anche la capacità di entrare empattivamente nei cuori di chi arrampicava prima di me. Scrivendo sul Cervino del 1865, prima salita Carell e Vimpa, io quasi salgo con loro. Io sto con loro in tenda, io soffro la morte di Carell alla fine. E così, avendo letto una vita intera sulla montagna, avendo ripetuto migliaia di vie e così vissuto con questi miei predecessori, ho potuto rammucchiare nella mia testa, in un grande computer, molte cose. Prima di dimenticare, prima di lasciare questa terra, volevo lasciare questa eredità. E ho scelto di raccontarla in una struttura museale. E avendo la possibilità di usare Castelfiammiano, un rudere a Bolzano molto grande, avevo la sensazione che facendo questo centro e facendo attorno 4, alla fine sono diventati 5 satelliti, posso dividere il grande tema in temi più piccoli. Così ho fatto un museo sul ghiaccio, a solda, dall'interno del ghiacciaio vedo sulla cima del nord. Secondo museo, il mio castello personale, Yuval, dove racconto la montagna sacra. Poi ho fatto il museo sulla roccia, sul monte Rite, poi ho fatto il museo sulle popolazioni della montagna, nel castello di Brunico e poi alla fine perché l'alpinismo tradizionale veniva sempre più emarginato perché il giovane oggi fa sport in montagna, mountain bike, la vela o va a fare le corse. Niente in contrario, però non è l'alpinismo tradizionale e ho deciso di ricordare anche alle generazioni del futuro che cosa è l'alpinismo tradizionale e ho scelto questo posto e poi è stata scelta da Yuval come architetta e avevo la prima volta la possibilità di realizzare questo sogno che avevo dall'inizio di legare il fuori col dentro e ho chiesto queste finestre che guardano in questo caso verso il monte Cavallo dove ho fatto la salita più difficile della mia vita non sul K2 e anche verso le mie montagne in altia, il Putia, ho fatto una bellissima via sulla perete nord e sulle ordine dove in tutto avrò fatto una 500 salite nella mia vita così leggo la mia esperienza personale con le montagne di nascita, con le montagne più difficili che ho fatto e poi se si vede queste finestre si vede che la natura fuori si specchia nelle finestre e dal dentro vedo tutto fuori, significa il quadro più importante, più valoroso è quello e non dentro quello che io ho messo e leggo perfettamente il fuori col dentro in questo caso nella provincia del sud Tirono con un turismo molto vivo, un turismo molto forte sono riuscito a fare cinque satelliti e un centro e assieme danno il museo Messina Mountain Museum e raccontano non tutto ma la montagna, non la storia, non le popolazioni soltanto, la montagna da quasi 50 anni vado sul palco a raccontare le mie avventure o anche la montagna ultimamente con grande successo in America o anche in Giappone e adesso vorrei sfruttare l'ultima possibilità a raccontare la montagna che è il film ci servono dei filmati per riassumere nei nostri cinema stiamo costruendo a Bolzano adesso un cinema nel museo, dentro nel museo, il museo questo sarà il primo lavoro già in autunno, in ottobre vado in Africa, in Kenya a fare come direttore non un fiction, un docu fiction, come si dice su una salita sul Kenya che è capitata 40 anni fa che adesso raccontiamo e imparo lentamente a fare poi quando so fare definitivamente faccio quel passo importante a realizzare qualche cosa di nuovo, qualche cosa che fino adesso non c'è né in una testa né in realtà e specialmente non sul grande te grazie capite tutti l'italiano? grazie grazie ciao 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 Grazie a tutti.